In Sardegna, un centro di formazione, una casa di pace e sicurezza. Un luogo dove troverai riposo, ristoro e sarai equipaggiato per trasformare questa nazione. Un luogo dove attraverso la rivelazione della parola, chiuderai con il tuo passato e aprirai il tuo futuro. E puoi seguirci anche online con i seguenti temi. La famiglia, il regno di Dio, la grazia, spirito santo, nuove identità, l'unzione in te, profezie, visioni e sogni, uomini di Dio, angeli e demonologia, fede, autorità, giustificati per fede, digiune e preghiera, guarigione, economia biblica, liberazione e guarigione interiore insieme a tanti altri temi. E seguici su Facebook per vedere i progressi di questo progetto. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!